I miti, quelli autentici, sono pochissimi e lei sicuramente lo è. È l'ultima di una generazione di fenomeni, attori straordinari che sono stati suoi partner sul set, da Alberto Sordi a Nino Manfredi. I suoi personaggi hanno divertito e commosso milioni di spettatori e tante, tante generazioni, a teatro, al cinema, in una televisione in bianco e nero di cui sentiamo tutti nostalgia. Come dimenticare la signorina Snob o la signora Cecioni? Nonostante i successi non si è mai seduta sugli allori e a oltre 90 anni continua a mettersi in discussione e a calcare le tavole del palcoscenico. Il mito è Franca Valeri. La vita, istruzioni per l'uso. Franca Valeri intervistata da Pino Strabioli, conduttore e regista. Venerdì 2 settembre alle 22 in Piazza del Popolo.